Per Tifo Grif, Agenzia Stampa Italia, siamo qui con il coach Fabrizi. Allora purtroppo Recanato è riuscito a passare qui al Panevangelisti. Al termine di una gara un po' strana al primo tempo, Perugia sembrava quasi timoroso della partita, forse sentiva troppo la pressione. Un terzo quarto molto positivo, un inizio quarto quarto altrettanto, poi si è spenta la luce. Veramente eravamo avanti fino a un minuto e mezzo alla fine. Sì, nel senso che comunque sul 60-54 poi... Certo, dopo loro hanno trovato due canestri a tre punti che hanno riaperto completamente la partita. Noi abbiamo fatto due tiri a sotto, uno sotto il Chiarello un po' contestato, uno inchiatti piedi per terra a tre punti, non sono entrati e questa è la palla a canestro. Dopo si fa fatica, è normale, lo sapevamo, è stata una stagione dura, durissima. È un campionato veramente tosto perché non c'era nessuna squadra che ha mollato mai un attimo e noi, se devo recriminare, quello che mi dispiace di più è non aver vinto gara a due perché secondo me era fondamentale. Siamo arrivati a un pelo e se l'avessimo portata via, secondo me questa partita sarebbe stata diversa. Però va così. Purtroppo la palla a canestro è questa, diciamo che la fortuna anche in questa gara comunque non è stata la nostra parte, tanti tiri recanati sono entrati, specialmente nel primo tempo, con un po' di fortuna. Le bombe al momento giusto, i canestri sputati, i palloni sputati dal canestro nostro. Forse un poltroniere un po' sottotono, un cutolo in grande spolvero pur con qualche errore. Direi che forse più di questo, stasera alla fine, tolta la tensione, tolta per l'importanza della posta in palio, effettivamente non si poteva fare. A recanati forse gara a due è stata la chiave. Forse potevamo giocare un po' meglio i primi due quarti, quello sì. Siamo stati anche imprecisi al tiro, alcuni tiri buoni, però comunque sia troppo affrettati. Alla fine questo è quello che ti concedevano loro e poi dopo lì loro fanno una scommessa, se quei tiri entrano tu vinci la partita, se escono la perda. Purtroppo lì non c'è entrato niente, abbiamo finito i primi due quarti, sembra una bomba di chiatti, era la seconda, sbagliandone tante, purtroppo è così. Per quanto riguarda la stagione, ovviamente è una stagione negativa per vedere la retrocessione, però si possono correre punti positivi dal torneo, soprattutto per quello che riguarda l'esperienza di coach Fabrizzi, che comunque è stato il primo campionato intero in una categoria, la terza categoria italiana, per il campionato italiano, quindi di tutto rispetto. Poi cosa si porterà dietro di positivo comunque da questa stagione? Beh, sicuramente è una stagione importante, è una stagione difficile e sinceramente pensavo che all'inizio fosse un po' meno difficile, invece è complicato perché comunque sia in questa categoria qua non ti regala niente nessuno, quindi è stata dura, abbiamo lottato giorno dopo giorno, allenamento con allenamento, partita dopo partita, ovviamente ci sono stati anche dei momenti di basso, però ricordo anche delle ottime partite vinte e delle ottime partite non vinte, forse quelle sono quelle che veramente ci hanno allogorato dentro, cioè siamo andati tante volte vicino a fare un'impresa in più che invece non è arrivata mai, quelle partite lì ce le siamo portate dentro e quindi abbiamo dovuto combattere un po' con la negatività che viene da queste situazioni, è normale, è stata difficile, non lo nascondo perché una prima stagione così non è facile stare lì sul pezzo tutti i giorni, è dura perché poi il campo non ti dà indietro soddisfazioni e quindi devi lavorare sulla motivazione, sulla testa, è difficile. Diciamo una stagione, un anno orribilis diciamo così però... Beh però ascolta, noi dobbiamo pensare che noi all'inizio del campionato ci avevamo detto che avevamo fatto una scommessa su un gruppo e cercando a tutti i costi e volendo comunque fare questo campionato qui scegliendo di non scendere, però il rischio lo sapevamo che era altissimo, quindi orribilis fino a un certo punto. Dal punto di vista dei risultati intendevo, comunque direi che dal punto di vista dell'aspetto diciamo cestistico che a Perugia comunque si è comunque seminato per il futuro, bene o male tanti giocatori sono tornati a casa, hanno assaporato molti bassi forse più che alti, comunque un'atmosfera e un campionato veramente di livello abbastanza alto dal punto di vista agonistico soprattutto, quindi si può ricostruire qualcosa sul futuro, ovviamente non che possiamo chiedere in questo Mettacoccio Abrizzi se programmi nell'immediato, ma comunque gli faccio i miei complimenti perché per tutta la stagione ha lottato, ha cercato di preparare i suoi giocatori, però anche questa sera si è visto un po' oltroneri che purtroppo come il mentale ha risentito anche dell'infortunio, non poteva essere in forma e quando ti vengono a mancare i punti di riferimento è difficile portare a casa il risultato. Sì, questo è vero, però io non mi sono lamentato mai delle assenze, non mi sono lamentato mai di niente e di sicuro non inizio stasera a farlo. Noi ce l'abbiamo messa tutta, poi dopo avremo fatto degli errori, ma insomma quando sei in una situazione come questa non dico che è più facile a volte sbagliare che fare giusto perché poi dopo un po' anche un filo di sfortuna che ci ha caratterizzato tutto l'anno, non ci ha consentito di portare a casa tante partite, compresa gara due e questo poi dopo ti logora dentro. Io vorrei approfitto per ringraziare comunque tutta la società, tutti i ragazzi perché comunque hanno lottato insieme a me, sono stati lì tutti i giorni anche fino a ieri a darci dentro e anche oggi fondamentalmente e quindi le ringrazio della fiducia e le ringrazio di avermi dato questa opportunità. Mi dispiace perché è finita male, però insomma tutto fa esperienza, credo. Comunque lasciamo Coach Fabrizi per quest'ultima intervista dell'anno, intanto con i complimenti miei, personali, di tutto lo staff Tifogrifo, Agenzia Stampa Italia per il suo campionato, ovviamente anche dei tifosi, dei veri tifosi del tifosi a basket che hanno ben compreso lo sforzo di un coach che alla fine ha rischiato in prima persona, tutto sommato il risultato non ha riso, però comunque ci ha fatto passare una bella stagione con tante emozioni. Grazie mille, grazie mille. In bocca al lupo per il futuro. Per Tifogrifo, Agenzia Stampa Italia, sono qui col Capitano Buonamente, intanto lo ringraziamo perché in questa serata ha voluto conquistare i nostri microfoni. Un commento sulla stagione, te lo chiedo alla fine, innanzitutto una curiosità per quanto riguarda questa gara, i primi due quarti siete scesi in campo, sembra l'Arestano con poca grinta, cosa è successo esattamente? Diciamo che loro hanno fatto sempre canestro all'inizio, soprattutto da fuori abbiamo fatto questa scelta all'inizio in difesa e non ha pagato. Quando eravamo in attacco loro si sono piazzati a zona e all'inizio ci abbiamo messo un po' per trovare le giuste misure perché siamo andati al tiro anche liberi e non abbiamo segnato all'inizio. Quindi dopo abbiamo cercato di fare qualcos'altro e ci è voluto un pochino. Ha pesato parecchio anche la preparazione della partita, questo stare 0-2, questa gara da vincere tutti i costi, hai visto sul 60-54, praticamente si è spienta la luce. Troppa precipitazione? È stata un po' la sintesi di tutta la stagione, sono cose che si sono verificate anche in altre partite. Non siamo mai riusciti a correggerle e alla fine retrocedi per questo motivo. Sicuramente si poteva fare oggi di più tutto l'anno, ma quando retrocedi è normale trovare tanti errori, tante cose negative. Sicuramente non eravamo tra le più scarse del campionato, siamo stati ultimi tutto l'anno, però mi piace anche sottolineare il fatto che Reganati ha meritato, perché abbiamo giocato contro sette volte, considerando anche il pre-campionato e abbiamo vinto solo una partita, quindi nel senso ci sta. Di questa stagione, a parte da puntista personale, che ricordiamo si è laureato brillantemente in ingegneria qui all'Università di Perugia, cosa si porterà dietro, capitan buonamente? Sicuramente un ulteriore insegnamento per la vita, che lo sport fondamentalmente deve dare questo, cose di cui magari non è giusto parlarne di fronte alle telecamere, però grossissimi insegnamenti, sia su cose da fare, sia su cose da non fare, questo per quanto riguarda a livello personale. A livello di squadra, che se ne dica, siamo stati uniti, qualcuno ha visto spaccature tra gruppo magari un po' più esperto e giovani, questo ci tengo a sottolinearlo assolutamente. Poi che uno valuta gli errori, quello è un altro discorso, ma assolutamente abbiamo passato anche in trasferta veramente delle belle giornate, mi dispiace aver sentito cose di questo tipo. Per quanto riguarda il capitano buonamente li dobbiamo fare comunque, è un piacere fare i complimenti, comunque anche stasera ha dato tutto, è stato a tratti trascinatore come sempre in queste situazioni della squadra. Vi facciamo i nostri ringraziamenti per aver gentilmente risposto alle nostre interviste per tutto l'arco del campionato, facciamo un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione che stavolta gli auguriamo positiva soprattutto sul campo. Grazie e dei complimenti, adesso pensare alla prossima stagione è dura, come dicevo prima con alcuni non mi viene a piangere perché stanno ne ho provate talmente tante dall'inizio del 2013 che per fortuna questa non è la peggiore di quelle che mi è capitata via, di situazioni, però dentro brucia qualcosa perché quando uno retrocede è sempre, parliamo di sport comunque, però è una brutta cosa perché comunque si poteva fare di più. Grazie ancora e forza Simone!